Faccio parte del movimento del Parlamento 5 Stelle, sono ancora di parte generale potente. Voce! Si sente? Voce! Su vicino. Cosa stanno parlando? Sì. No! No! Siamo stati parlando. Io, quello che stiamo andando con il Parlamento 5 Stelle, siamo praticamente come delle cellule di un organismo autonomi, indipendenti e uniche, però abbiamo insieme un uso TNA, che è il bene comune. Quello che dobbiamo fare è passare da uno slogan a una realtà. Quindi bisogna che tutti lavoriamo sul bene comune, mettendo insieme i poeti, i scrittori, tutti nel nostro mondo che lavorano, in mani a tale che nega il bene comune è che lo sottolineiamo e lo vatturiamo. Noi, come in tutto, abbiamo lavorato, abbiamo risposto anche nel discorso dell'anno e del sacco, abbiamo lavorato per trovare delle soluzioni a problemi ambientali, a problemi di sesso all'epidemiologico, eccetera, che creano lavoro, costano pochissimo, o addirittura portano notevole interabili agli amministrazioni. Quindi se volete nel rimozzo di questo, se ci volete notare, se ci volete fare un'altra maniera di un'edizione, possiamo lavorare in questo edizione. Grazie. I lettori arrivano spesso rappresentate anche al Parlamento e comunque, insomma, già abbiamo degli incontri, abbiamo già fatto degli incontri con tutti, insomma, con i parlamentari sui termini specifici. Volevo dire che mi metto a disposizione per la sanità, perché lavoro all'azienda ospedaliera Sant'Andrea, per un trasferimento obbligato, perché i posti vacantici erano, non mi sono trovata l'azienda, in questa villa, quindi ho avuto il posto di lavoro, diciamo. Poi in questi 12 anni ho visto tutti i vari maneggi, diciamo che ero arrivata a fare finalmente il lavoro, per cui tutta la vita ho fatto, come si chiama, la gavetta, e poi improvvisamente arriva Tizio e Caio, sposta le persone e ti buttano via, come un cestino. Non importa, perché comunque io porto sempre il mio contributo lo stesso, perché è il sociale che mi dà lo stipendio, quindi non è che voglio fare chissà cosa. Però volevo dire che sono disponibile per denunciare tutto quello che il fisco. Per quanto riguarda la scuola, invece, velocissima, aggiungerei di poter dire, portare nelle scuole un contributo di solidarietà, insegnare ai ragazzini il senso civico, le responsabilità civile, perché questo butterebbe a terra, fine, gugliesco. Basta. Buona giornata a tutti, io lavoro presso il comune di Asselmo di Porto, ho aperto il B-TAP Castelluovo di Porto, quindi potrete capire un po' in che situazioni mi posso trovare nel controllo quotidiano degli atti che va giunta e quindi il Consiglio emana ogni giorno e ho trovato come forma di pubblicità, oltre che l'argomberatorio su cui non attinge nessuno dei cittadini di Castelluovo, uscire dalla piazza con il B-TAP e quindi, comunque sia, seguire e mantenere sempre quelli che sono i decidi del movimento, e di fronte dai cittadini, i quali nei primi già incontri che abbiamo fatto sul territorio ci ringraziano e rimangono sorpresi praticamente di questo lavoro che facciamo gratuitamente, siamo in formazione a costo zero e a 360 gradi per tutti. Una cosa che ho notato, appunto, di circa vent'anni di esperienza amministrativa è appunto questo problema di accedere agli atti o comunque della divulgazione dei documenti e una cosa importantissima che ho potuto rilevare è stata la mancanza adesso di mezzi a livello proprio burocratico, come quelli che ci sono stati tolti, per esempio, il controllo sugli atti, che è stato ripresinato brevemente da poco tempo sul controllo sugli atti interni, che è una parapenza di legge a tutela e della trasparenza, ma invece non è così. Il Corrego aveva un compito molto più efficace, quindi praticamente la posizione dei particolari centrali della Costituzione è stato veramente un danno per tutti gli enti. E' come togliere il Bancomat ad una moda di spettazione, quindi il Filoni e il Bancomat non spende più, comunque controlli meglio le spese. E un'altra cosa, se è possibile, lo sto facendo un po' in via informale, quindi mi dà un po' di contorno a me, volevo buttare l'idea di fare una piccola proposta di legge per appunto restituire alla figura del segretario comunale, che ora fa semplicemente e verbalizzante la responsabilità dell'evanazione degli atti, della illegittimità degli atti che adesso c'è. Grazie. Per quanto riguarda l'organigramma, l'organigramma è pubblicato sul nostro blog, che abbiamo pubblicato sul nostro blog, c'è un'area, una posta ai commenti, non penso che ci sono 60 commenti, lì quello era il luogo per aprire la discussione, però poi abbiamo pubblicato molto prima di prendere decisioni o di dire cose che finalmente servisse in regione per il nostro lavoro. E comunque, come tutto ciò che ci riguarda è tutto quello di progress, perché essendo nuovi e avendo necessità di capire come effettivamente lavorare in modo possibile, tutto, dal programma, l'organigramma, tutto ciò che viene condiviso con voi. Noi più che pubblicarlo, spammarlo, su tutte le nostre pagine, su tutti i nostri astrologhi, la partecipazione da questo punto di vista deve venire un po' più da parte vostra. Non possiamo veramente, quindi anche questa volta, chiedervi di fare ricordamente la nostra attività. Più da spesso, così si muore. Ma un'altra cosa, per quanto riguarda l'assemblea, noi invece pensiamo che forse sia ancora un po' prematura questa assemblea, perché effettivamente già solo il tempo che ci hanno messo per darci gli uffici e i numeri di telefono è stato un tempo britannico. Quindi comunque, considerate che il primo mese stava di assistamento, non avevamo gli uffici, ci riunivamo dentro le salette pubbliche della sana. Abbiamo indetto moltissimi incontri in tavoli di lavoro. Insomma, io penso che questa mancanza non ci sia assolutamente stata da parte nostra, anzi, magari possiamo lamentarla un po' di attivisti, ma siamo qui appunto per rimediare a tutto questo. Grazie. Ieri, per l'altro in corsa voce, siamo da soli tre mesi di Alanzana e stiamo, e ovviamente tutto quello che riguarda l'organizzazione, la comunicazione e il collegamento con i territori è un qualche impropria, stiamo cercando di migliorare al massimo, ma dovete calcolare che noi abbiamo giornate di 24 ore, come tutti i comuni mortali, non possiamo essere fisicamente presenti in ogni mitappo, ogni giorno. E tra l'altro, per quanto riguarda Frosinone, noi ci siamo stati i referenti territoriali, non avendo Frosinone un portavoce eletto, siamo Ieggai, ci siamo tutti visi il territorio. E siamo stati presenti in occasione della Prana, quando c'è stato un problema, gli attivisti del mitappo ci hanno chiamato, ma nei limiti delle possibilità del caritario istituzionale, non abbiamo più una vita privata, figuriamoci, veramente, siamo facendo il massimo, sicuramente tutto è perfettibile ed è migliorabile, per carità, non vogliamo avere la presunzione di dire che le cose del prezzo sono perfette, ma rendetevi conti che siamo umani, cioè siamo umani e sono solo tre mesi, ricordiamolo. Per quanto riguarda invece la questione che ha sollevato sulla ragazza dell'area mondiale, poi mi dispiace che se ne facciano questioni personali, insomma, di nomi, così, del territorio. Allora, noi abbiamo fatto veramente più trasparenza che così, se muore veramente, cioè abbiamo fatto il bando a cui chiunque poteva partecipare. Sono stati variati i vari curriculum, non vedo, cioè è stato fatto tutto in una massima trasparenza. Siamo orgogliosi di avere tra coloro che collaborano, anche degli attivisti che sono adattati a per ruolo e per ricordo che per quanto riguarda lo staff del Coreco, la struttura ha il supporto dal regolamento di quattro persone di diretta collaborazione, senza alcun tipo di qualifica. Sono io che in base all'esigenza di quello che è il lavoro quotidiano del comitato, ho cercato di incardinare delle figure di collaborazione in modo tale, e anzi dovreste essere felici che un attivista che è rappresentante anche della vostra provincia abbia, insomma, sia un parte, forte il suo contributo, anche come attivista, perché siamo, è vero che c'è lo staff, ma ovviamente c'è una collaborazione, noi cerchiamo di creare un clima sereno e collaborativo nell'ottica del movimento, quindi abbiamo pubblicato tutto, siamo trasparenti più di così, ogni polemica è una cosa. La discarica di Bolleferro, c'è una, mi si chiama Gaia, è un consorzio che è un comune, che in realtà non ha mai funzionato e non abbiamo a Paluntone assolutamente la differenziata. Chiedo poi a voi che non dimenticate, per carità, non è possibile, non dimenticate che esiste solo Marco, ma non è pronta, ma esistiamo anche noi, mi prendo atto. L'altro problema è il Leberlander, non si fa niente per Leberlander, almeno in ogni zona, e ne troviamo tante, tante ma veramente tante. L'ultima cosa, brevemente, è la famosa maledetta spendere più, ma la spendere più si fa anche lottando contro la musidismo. In tutta la regione, faccio riferimento anche alla parte mia del valutore, il comune ha tantissimo musidismo, purtroppo esiste a livello comunale un ebodismo, quindi si chiude un occhio se si costruisce in un modo diverso, portandosi liberamente di tutti gli altri cittadini. Nell'imito è possibile un intervento in più, capisco quello che fa, un intervento in più rispetto a queste cose, ovviamente con tutto il lavoro che avete. Apporti positivi, volevo solo dire che esiste una pagina Facebook, una pagina Facebook del quadrante Roma sud-est, di cui io sono referente, io sono cresciuta con l'intervo, con tutti gli anni essi e formessi, per cui conosciamo molto bene la situazione, ne stiamo parlando e c'è anche una proposta di legge che è il cantiere per la Valle del Sacco e poi ci sono i tavoli di lavoro sul meetup dove si può discutere e parlare di tutto. Grazie. Abbiamo già detto in Commissione Ambiente diverse volte, la contrarietà del gruppo consigliare a progetti di biogas, quindi su questa terra è un movimento, quindi a livello locale queste queste denunce vanno fatte e i controlli vanno fatti incrociati, tramite la vicina, adesso c'è arrivata questa denuncia e vedremo come gestirla, però sul livello locale non è che il giornale non fa niente, perché non è che noi siamo presenti puntualmente in ogni meetup. Ecco, aprire una denuncia per teneremo di capire ogni cosa, come gestire, ma comunque ricordatevi che il territorio non dipende da noi sette, il territorio dipende da voi cittadini. Grazie. 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 di malattie comunali che interessa non solo Civilecchia, ma la provincia di Roma e forse tutto Lazio. Allora vi invito a fare un tavolo ambiente a Civilecchia, abbiamo una bellissima sede di 100 metri quadrati dove noi ci passiamo tutti quanti 10 euro al mese e paghiamo 20 non sapevoli della necessità di essere utili. Poi per onestà personale vi devo chiedere di rivedere le modalità di assunzione. Questo vi prego, io a voi vi ritengo veramente delle persone, per me che siete in frontiera, siete veramente eccezionali. Grazie. 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 per trasparenza è veramente di un problema se volete mi ricordo a io posso pure farlo con un cognome non ho un problema analisi a sciare posso dire praticamente praticamente rivedere le modalità su questo se volete dei particolari dei dati di fatto perché si è pure che stanno a zero allora noi abbiamo fatto un bando chiarissimo che è stato spammato dovunque e chiunque poteva partecipare e avevamo espressamente scritto nel bando che ovviamente ha parità di competenze piuttosto che è un attivista ovviamente preferibile per il semplice motivo che è di supporto anche per l'attività che si svolge all'interno dopodiché a tutti coloro che sono stati poi scelti abbiamo detto che c'era un mese di prova con tanto di valutazione e che alla fine nel mese di prova abbiamo tratto le nostre conclusioni in seguito al svolgimento dell'attività all'amore di lavoro che era stata fatta e alle esigenze del gruppo non esigenze personali esigenze di lavoro lì all'interno dell'istituzione abbiamo fatto delle prove scritte dei colloqui tutto in maniera molto trasparente io credo che una cosa del genere non si possa fare per un semplice motivo perché le esigenze organizzative lavorative istituzionali le vive il gruppo il gruppo può sapere che cosa è necessario adatto all'amore di lavoro piuttosto che ai ritmi dell'attività abbiamo fatto una scelta oculata mirata allo svolgimento del lavoro soprattutto nell'ottica senza spese eccessive finalizzata proprio con misurata le esigenze di lavoro ma soprattutto con tanti di curriculum che verranno pubblicati appena perché ci sono due mesi di prova quindi se non venivano confermate le persone insomma non ha senso per cui in tutto in maniera molto trasparente quindi perdonatevi ma il singolo di TAP non può entrare nelle esigenze del gruppo perché che vive il lavoro con il mio amore applausi io ho detto che comunque sono stata io a valutare io e Valentina a valutare il compito perché no e questa non è neanche una cosa che stiamo volendo dire però ogni qualvolta arrivassero persone il curriculum da valutare che avessero comunque già passato la tenzione chi apparteneva per il curriculum o conosceva per che mi eravamo scusate o conosceva non ha partecipato al colloquio quindi comunque sono stata io e Valentina a fare il colloquio ad Annalisa Annalisa non solo da attivista che era dispinta per il supporto al gruppo in maniera gratuita come fare ma hanno fatto moltissime altre persone che ci hanno comunque supportato in questi mesi e non solo oltre ad essere veramente ve lo assicuro eccezionale nel suo ruolo e ci previene professionale cioè veramente stai ritmi è in grado molto spesso quando ha finito di fare le giocate di sigaretteria di affiancarci nel ruolo di consiglieri cioè di cui noi abbiamo bisogno cioè credo diciamo sempre noi a questi ragazzi non abbiamo dato un posto di lavoro non gli abbiamo fatto un favore loro stanno partecipando ad una missione umana io lo dico sempre e non è una passata non ci sono passata veramente un lavoro è una creazione grazie però vorrei farvi una considerazione perché si è parlato di tutti i problemi ce ne sono tanti siamo proprio alla deriva però non vi scordate neanche di quei giancerati che vivono nelle proprie tante e che sono i pesanti che la la precedente amministrazione vi è stato toccato la terapia lucidiale i presidi non vanno mai collaudati vengono date dei presidi che non rendono autonome le persone io vi posso offrire il mio contributo da casa attraverso il sito però date uno sguardo a tutte queste cose per fare una verifica in tutte le asle dei presidi che vengono tanti agergetti alle persone disabili che a volte anzi spesso e volentieri non sono conformi per la loro ehm la loro grazie 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 un attimo un primo passo verso qualcosa di nuovo quello che ho detto oggi è cento passi in avanti nel senso quello che era di questo sito è un modo per discutere il programma ai giornali la sua è adesso abbiamo fatto veramente un passo molto molto lungo e questo strumento è pronto nel senso finalmente abbiamo uno strumento che ci mancava per poter gestire la discussione interna aumentare la democrazia interna per poter dare a ogni persona la possibilità di poter partecipare nella vita che facciamo in regione ma addirittura una persona può scrivere una legge e vederla portata così com'è in regione o un giorno in mani vado molto veloce perché potrò abbiamo tempo per dare spazio anche alle domande allora i principi sono questi che nessuno di noi è in grado di risolvere i problemi del mondo anche perché ognuno lavora ha delle esperienze una competenza specifica ma tutti insieme siamo in grado di risolvere i problemi più grandi anche i cambiamenti climatici malagrotta sanità tutti insieme possono trovare la soluzione migliore questo è un certo fondamentale così come non esiste un problema che non abbia soluzione è difficile da trovare ci vorrà tempo ci vorranno tanti sforzi ma la soluzione esiste ad ogni problema e solo se abbiamo le forze questo problema può essere risolto questa è una bella premessa e come momento 5 Stelle sapete che siamo un'attività di rete e il nostro principio è l'intelligenza collettiva cioè il fatto che noi ci uniamo tutti in una stanza ognuno fa le sue esperienze le sue competenze e insieme troviamo la soluzione e la cosa bella è che quando parliamo di un strumento di democrazia diretta con quello che stiamo già lanciare non importa se io ho 18 anni o sono 50 se io sono professore universitario o professore lavoro in un supermercato tutti possono avere una buona idea e così può essere puntata in un gruppo di lavoro e questo gruppo può lavorare questa idea migliorandola o non ci metto un pezzo e arriveremo all'idea migliore condivisa da tutti questo è il principio di intelligenza collettiva ecco per cui stiamo lavorando la cosiddetta di democrazia liquida c'è il modo di poter dare cosiddetta a ogni persona di poter influire sulle decisioni politiche a ogni livello vuol dire che vogliamo superare io per il conto ci possono mettere un'edito potete con la mezza la libertà vogliamo un momento 5-6 superare le quali limite dell'emocrazia rappresentativa cioè adesso noi leggiamo delle persone come ho detto stamattina ogni 5 anni le leggiamo poi fanno quello che vogliono noi vogliamo ogni giorno poter dire quello che deve essere fatto e controllare ogni giorno quello che fanno i nostri portavoce e quindi vogliamo coinvolgere per la prima volta il singolo cittadino anche oltre il scrittamento 5-6 e ogni cittadino italiano in questo processo ecco per cui la domanda veramente da cui siamo partiti stiamo lavorando da un anno questa domanda è questa possiamo permettere a un cittadino di avere questo potere non più rappresentativo ma diretto di poter decidere del proprio futuro noi diciamo di sì siamo pronti prima che non è pronta l'Italia stiamo per dare uno strumento a Lazio attualmente ad altre regioni attualmente all'Italia che neanche in Europa nessuno ha mai testato questa è una prima veramente assoluta questo è quello che stiamo facendo siamo partiti dal codice di quella applicazione software di quella applicazione internet di quella applicazione posso dire informatica che ha permesso di costruire il nostro programma elettorale il programma elettorale è fatto da niente sanità trasporti tutte le proposte che abbiamo messo nel programma elettorale sono state discusse in rete sono state vendate sono state votate hanno usato questo strumento anche una volta per costruire una cosa partecipata che poi abbiamo portato in regione come programma elettorale si è partita da questo strumento che era già disponibile con un software aperto per source che abbiamo però modificato mesi, giorni noti di lavoro per renderlo utile per il Movimento 5 Stelle quindi abbiamo lavorato sull'interfaccia sulle sicurezza sulle funzioni in modo che uno strumento che io posso chiaramente faceva schifo nel senso di più che si l'ha usato era veramente complesso macchinoso è stato utile ma pochi non l'hanno usato almeno 500 utenti in tutto l'azio che era un numero abbastanza basso però siamo riusciti ad iniziare con questo strumento a farci un po' un'interfaccia diretta quindi abbiamo superato tutti questi problemi che avevamo sullo vecchio strumento e creando un'interfaccia moda per qualsiasi persona che sta usando un bancomat per esempio io vado al bancomat chiedo rilievo voglio 100 euro un'interfaccia si no questo è il processo facilissimo che una persona che usate un'informatica lo sa fare stessa cosa per questo parlamento elettronico ogni persona che non ha competenze informatiche anche con 70enne diciamo che è una esperienza diciamo smanitaria facciamo uno sui vari social network può usarlo quindi l'accessibilità è stata la prima cosa l'interfaccia semplice dottoni grandi facilissima da usare l'interfaccia ve lo anticipo sì in questo c'è una conferenza stampa il 10 l'idea è che in tutti i banchetti ci sarà un tablet sapete quegli dispositivi che si usano adesso molto facile da usare proprio in giro in cui addirittura il pagamento elettronico sarà utilizzato nei banchetti e io lì posso avere accesso con il bottone posso fare le conferazioni di realtà anche per scato questa è una cosa evoluzionale così come la sicurezza il blog di web spesso è stato attaccato anche ultimamente questo è un strumento che ha delegazioni di sicurezza molto avanzate e in questo paletto stiamo portando un momento elettronico a che serve? per certo prima scrivere una legge la cosa bella è che nessuno di noi è grado di scrivere una legge non solo un esperto può scrivere un avvocato persone che hanno esperienza magari di regione la cosa bella è che questo strumento permette a qualsiasi persona di essere guidato nella scrittura di una legge legge magari un'interrogazione un'interpellanza una mozione la cosa bella è che abbiamo lavorato a un nucleo base con cui si può appunto essere guidato in questa scrittura questo facilita di molto anche il rapporto fra noi e un'istituzione lontana con il Parlamento di un'interrogazione e la cosa bella è che sotto sotto c'è ancora il confine ma è completamente visto quindi è ancora uno strumento che permette a me di lanciare un'idea qualsiasi persona di voi può lanciare un'idea faccio un esempio pratico costruiamo una pista ciclabile lancio questa idea poi un'altra persona che prende questa idea e dice magari facciamola fatta così magari con l'argo metto in mezzo un'altra persona dice guarda facciamo invece che tenita facciamo un po' più stop insieme questa iniziale questa bozza viene discusa migliorata inventata poi si darà la votazione appunto di questa proposta che diventerà un'area piuttosto di tutti è una proposta invece che è una cosa molto complessa e non vi sto a dettagliare tutto questo lavoro è iniziato nell'uglio 2012 quindi molto tempo il primo test è stato appunto questo di quel film per fare il nostro programma ma poi da marzo 2013 quindi abbiamo proprio tempo siamo arrivati a luglio marzo, giugno luglio di 5 mesi avendo un prodotto pronto utilizzarlo allora il progetto è questo abbiamo una piattaforma nostra completa per poter fare tutta questa democrazia diretta quindi coinvolgere tutti gli iscritti certificati nelle fasi decennali interne realizziamo un organo democratico deliberativo online del movimento cosa che ovviamente c'è il pacto cioè abbiamo la 5 stelle di unità abbiamo il blog abbiamo gli email abbiamo tanti strumenti diversi questo vuole essere qualcosa in più che ci aiuta nella nostra discussione interna che sia ancora più partecipata ancora più democratica di quello che è già adesso e poi dobbiamo appunto fornire ai cittadini non solo ai nostri iscritti ma a tutti questa possibilità vedete vedete questo è un passo molto importante e poi anche qua migliorare l'apporto diretto che dovremmo avere chi sta da questa parte chi sta dall'altra così come vogliamo influenzare tutti gli altri a fare come facciamo noi su questo procedimento questo è una prima schermata vedete è semplice io dico quello che voglio fare per esempio voglio leggere proposte di altre persone che hanno fatto voglio scrivere una proposta di legge voglio votare una proposta che arriva dal deputato regionale voglio per esempio addirittura votare e come c'è scritto e proporre gli altri comuni vogliamo che tutti possano partecipare a questo processo e anche noi commentare altri progetti perché noi in regione spesso abbiamo a che fare con cose di legge di altri partiti che magari sono buoni sbagliati però dobbiamo vedere affrontare discutere questa legge di discutere in regione che era messa in questo strumento tutti potranno dire questa legge è giusta è sbagliata miglioriamola sotto questo aspetto modifichiamola e poi noi questa proposta modificata la riportiamo in regione cosa utilizzo altrimenti non c'è questo canale perché una legge che viene discutita in regione noi magari la postiamo sul mitato ma non è un luogo su cui si può discutere e modificare attraverso questo è una monta più semplice e questa è una prima preview una specie di prima visuale di questo strumento che però a 10 faremo vedere proprio a tutti i giornalisti come funziona è molto semplice ogni proposta di legge supera una fase è facilissimo seguire a che punto è la proposta di legge capire se io l'ho votata o no se ho fatto una modifica se la modifica è stata accolta se viene discussa è una cosa molto a livello grafico vedo bene quante proposte sono state messe magari sul tema ambiente quante proposte ci sono in che fase sono quanto è successo quella proposta e poi controllo esattamente quello che succede vogliamo stiamo ricreando quello che è le 8 commissioni che avete visto prima ambiente sanità informazione vogliamo proporre questi strumenti in modo che ognuno possa intervenire su quella commissione qua sono generate tante idee io mi chiedo una cosa di legge sul consultore sulle scuole sulle riforme delle professioni semplicemente questa idea io la posso inserire questo strumento viene discussa supererà un certo livello di cuore quindi io non apro mai una cosa di legge razzista xenofoba violenta oppure non condivisa dagli altri quindi posso proporre costruire la città di nucleare su tutto l'ansio questa proposta non supererà mai un cuore di interesse quindi perdo anche meno tempo nel come posso dire affrontare le discussioni che poi non possono nulla ci concederemo solo sulle discussioni importanti questa è un po' la logica vado velocemente il settore è molto complesso sono lavorando da molti mesi e queste sono le statistiche principali tutto gratuito per nessuno non è costato nulla e neanche i cittadini che lo useranno costeranno nulla è stabile quindi siamo protetti con il stesso attacco da siccome entriamo poi nel discorso votazioni chi vota chi non vota c'è una garanzia di una sicurezza dei dati per come verranno gestiti poi se ci sono dei dettagli tecnici ve lo racconterò può essere usata su tutte le piattaforme non solo sul computer ma anche sugli smartphone ma anche su questi telefonini sarà possibile controllare le leggi votarle e modificarle proprio facilissimo da usare sarà importante l'ho già detto un'interfaccia molto semplice la cosa più importante è che ci hanno accusato di voler fare delle cose soli che erano piadenti in lavoro in realtà lo siete appena e sarà in grado di usare questa questa piattaforma o una persona parte di tale o una persona che non sanno le informazioni sarete dato come social network molto veloce questo ve l'ho già detto molto veloce noi scendiamo sul tecnico sicurezza impidità dei dati trasparenza su come si ruota sarà veramente una piattaforma molto molto nuova questo è giusto per la sicurezza perché a casa la testa così su non è sicura non è stabile in realtà stiamo creando un mare di informazioni su per portare un livello di conto in banca voi decidete magari il vostro conto corrente tramite web fate bonifici fate giroconti non so quel sito è sicuro è più fidato e funziona non ci sono mai stati persone che hanno compato i soldi del vostro conto corrente però il livello di sicurezza a livello bancario noi abbiamo riprodotto in questa piattaforma una garanzia di un livello di affidabilità professionale e vorremmo usare anche questa specie di schema token quello che ecco come voi ha quando accedete al nostro sito sulla banca avete un sapparecchietto che vi dà un codice personale sicuro e voi potete accedere per essere per garantire chi siete chi dite di essere questo è un livello attualmente non è di più affidabile ma quello che fanno le banche faremo che non ho compiato una cosa buona per cui non basta più accedere con un'utenzione a passo ma abbiamo fatto un passo velocemente il flusso logico molto complesso dietro questa interfaccia semplice di bottoni grandi di funzioni molto semplici ci ritrovi anche un mondo di software che lavora in modo automatico e la cosa importante è che abbiamo integrato un editor all'interno cioè io quando scrivo una cosa utilizzo un editor che è stato elaborato in modo molto dettagliato molto complesso quello che guida appunto nella scrittura di una legge cosa che non c'era di più di una legge da zero così come noi scriveremo cose di legge come uno standard già utilizzato in Parlamento e anche al Parlamento europeo cioè la legge che uscirà da questo strumento sarà pronta per essere portata in una sede legislativa non dovrà essere in rivista ne modificata già uno standard legislativo internazionale cosa che non c'è in nessun altro strumento di democrazia questo perché è che stiamo lavorando con l'Università di Bologna già da molti mesi per poter integrare a questo strumento questo standard legislativo per scrivere i documenti che il Parlamento utilizza quindi siamo molto avanti da questo punto di vista ed è uno standard si chiama Comandoso non è strano ma perché è uno standard legislativo informatico lo stiamo già utilizzando per la prima volta in questo Parlamento territoriale così come su questo abbiamo l'ufficialità proprio da pochi giorni del Parlamento europeo e allora il Parlamento europeo visto che stanno facendo una cosa molto avanzata e ha detto guardate vogliamo collaborare con voi cosa incredibile quindi il dipartimento è quello che si chiama direzione per tutti quindi l'Università di Bologna ci ha dato un team di supporto che ci sta aiutando nell'audito di questo progetto per la parte di questo progetto il Parlamento europeo c'ha dato di solo uno staff e grazie diremo anche queste persone questo staff che ci sarà una mano per sviluppare questa parte che è un'altra parte dello strumento che permette di modificare un'opposta di legge la cosa difficile è una legge molto grossa si vuole modificare un pezzettino un altro lo strumento permette in modo facile di confrontare le modifiche di tutti gli altri utenti le mie vedere le versioni fare una provvisoria delle modifiche questo aiuterà tantissimo anche noi per questo lavoro che facciamo tutti i giorni senza uno strumento che dovrebbe controllare tutti gli emendamenti anche degli altri gruppi politici ci troviamo di fronte a tantissime modifiche magari decine parallele non sappiamo chi ha modificato cose questo strumento sarà molto facile controllare anche chi fa le modifiche come le fanno e questa è proprio la parte strutturale cioè abbiamo una parte una parte aperta vedete al documento 5 stelle sono gli iscritti vedete da un determinato un po' di mese anche questo sarà la sala di cifra insieme insomma gli iscritti magari non fino all'ultimo mese iscritti fino a un mese o due mesi fa però giusto per essere sicuro per una persona che non entra apposta per magari utilizzare questo strumento giusto un tempo tecnico di certificazione tutti noi abbiamo venito a votare in questa parte e proporre discutere votare le decisioni iniziative io ho scritto regolamenti interi sarà una forza che guarda costruire insieme un segno per discutere un regolamento per decidere una qualsiasi scelta politica decidere insieme come usare la costruzione diciamo che è tanto a noi per condividere scelte ancora in modo più partecipate invece un'altra parte questa è anche la forza aperta a tutti anche gli iscritti del PD del PDL tutti per decidere un'idea buona perché non prendere anche da loro qualcuno che propone un modo per che so superare il problema sanità il problema ambiente diciamo una qualsiasi scorsa di legge è uno strumento che lo dobbiamo dare a tutti i cittadini perché per pensare che siamo aperti a qualcosa di buono se noi influenzeremo negli altri partiti a fare strumenti di questo tipo ben bene se poi qualcosa arriverà dal PDL a posta del PDL non va bene chiaro che la giuderemo però dobbiamo considerare tutti i cittadini indipendenti per scelte politiche di poter partecipare ok poi la struttura è fatta da commissioni tecniche non c'è dei dettagli perché poi è una cosa un po' complessa ma la faremo vedere in pratica noi cerchiamo di ricordurre quali sono le commissioni le commissioni consigliari con delle commissioni che valuteranno l'andamento che lo possa dire molto velocemente una commissione fatta da esperti apriremo un bando pubblico tramite il sito persone che hanno le competenze legali e amministrative ambienti che vanno a candidarsi e probabilmente questa commissione tecnica ha fatto i volontari e queste persone verranno scelte per selezionare a un certo punto per valutare le proposte di legge pensate a queste leggi molto interessate però con una cultura finanziaria inutile anche portare in votazione una di queste commissioni sarà salvata da esperti contagi di amministrazione pubblica che dovrà stabilire in quel momento se quella vostra legge che tutta la nostra attività portando avanti sarà una copertura finanziaria sia sostenibile economicamente non saranno persone volontarie nessuna sarà pagata che dovranno esprimere un parere tecnico se quella legge avrà una copertura finanziaria o no e questo parere poi andrà avanti per far proseguire la votazione così come l'aspetto legale questa vostra legge è fatta legalmente che è costituzionale o sovrappone un'altra legge questi esperti tecnici che appunto verranno selezionati in maniera che può creare spare il tuo curriculum daranno un parere sulla proposta di legge che non sarà un modo per bloccare o valutare saranno persone scelte di un modo casuale saranno 30 candidati ogni volta ne scegliamo 10 a caso per fare un parere tecnico sul lato economico e per l'inestitutivo questa è una cosa che stiamo lavorando stiamo anche qua metteremo la scrittura di una norma e modificheremo la scrittura velocissimamente sono girando il 3 al 4 allora ci stanno lavorando secondo me 19 eroi ci stanno lavorando giorno e notte oltre al loro lavoro sono informatici sono consulenti nel sabato e la domenica nel tempo lì stanno costruendo questo progetto quindi a costo zero e questa è una cosa incredibile avremmo di ringraziare uno per uno si stanno organizzando per l'ultimo di lavoro sono vedete un po' altro abitato ognuno ha un pezzettino ognuno ha un pezzettino ognuno ha un pezzettino in questo progetto e stanno svolgendo in questi tre mesi questo lavoro e sono arrivati a presentare il 10 luglio una prima piattaforma stabile e funzionata che si sarà nelle funzioni basi poi nei mesi successivi saranno migliorate e integrate e c'è l'idea di anche qua di poter assumere una persona perché? perché sono 19 volontari che stanno arrivati al liceo nel tempo lì il signore di noi vanno appunto questo strumento sarà figante sarà complejo sarà una cosa molto grande ma abbiamo necessità che ci devono una persona che è proprio pieno almeno 8 ore al giorno io sto cercando fondi anche dell'antiregione tra l'altro con la Lombardia con la Sicilia anche con il livello nazionale noi stiamo cercando di capire quanti soldi ci avanzano dal pagamento dello staff che vi ho visto prima sapete io che ci ho staff eccetera la parte di soldi che rimane perché lo stiamo sperando tutto anche qua ci teniamo insieme quanta parte di questi soldi da una persona che potrà dare una mano in maniera non solo volontaria ma come lavoro per permettere a questo progetto di arrivare non a novembre non all'anno prossimo ma a voce di studio come si dice che il progetto è pronto completamente possiamo attivarlo in tutte le sue funzioni adesso stiamo correndo su volontarie sicuramente non è facile quindi faremo questa selezione prossimamente valuteremo insieme le competenze se una persona potrà dare una mano retribuita su questo progetto pensate che qui ha lasciato una cosa dicevo prima il tuo Parlamento punto.it che è una cosa secondo me prontissima inutile e ha speso 15 mila euro noi a costo zero con i volontari non stanno parlando nulla però un minimo di aiuto economico per far funzionare questa nuova ci serve per lo sviluppo però di questo poi anche qua chiariremo tutto allora i tempi sono partiamo adesso quindi mili iscritti sarà la prima fase di test sarà la fase diciamo in cui testeremo il funzionamento generale quindi sicurezza prima gli utenti dovranno avere testare le funzioni principali non avremo questo editor purtroppo di guida nella struttura delle leggi ma arriverà tra poco e non avremo neanche le commissioni di controllo adesso sarà un po' di feedback modificato con l'interfaccia ma già funzionante nella fase invece dei prossimi mesi sarà praticamente esteso e avrà tutte le funzioni principali quindi partiamo a luglio parte non lo sarà completo non lo sarà per qualche però l'importante è partire velocissimamente partiamo nell'anzio l'obiettivo è arrivare a tutti su 100.000 elettori del 25 stelle quindi un test così ampio è rimasto fatto i rati in Germania hanno fatto un test simile su 30.000 utenti noi partiamo già con mille ma rivenevo presto a almeno 100.000 utenti per poi partire su l'Utile Lombardia loro aspettano con estrema ugenza che loro hanno gestito di far partire altri 700.000 elettori per poi arrivare ad altre regioni come tutto nazionale su questo vedremo i primi mesi qui parliamo di milioni di persone potrebbero usare questo strumento quindi la sfida è veramente prossima quindi la conclusione è che stiamo apriendo qualcosa di nuovo neanche noi sappiamo bene cosa succederà stiamo apriendo una porta verso la sua futura e questo strumento metterà se la crisi gli altri partiti posso dire chiaramente perché mette in discussione di gerarchie come gli altri partiti stanno decidendo il rapporto fra loro e non chiamo portavoce non chiamo eletti quindi come si relazionano i loro portavoce con i loro eletti e chi non sa che vi seguirci su questa linea dovrà per forza avrà dei problemi dovrà per forza rendere conto ai propri datori quindi stiamo aprendo qualcosa di nuovo anche per la politica italiana e la cosa migliore è che tutti quelli che hanno competenze per darci una mano possono farlo questo non è solo aperto a chi lo sta sviluppando ma è aperto a tutti ci sono gruppi facebook c'è la mail la persona che sta coordinando il progetto è questo Emanuele Sabetta che ringrazio perché sta facendo un lavoro enorme c'è questo sito che l'ho trovato online ci sono modalità per entrare in questo tipo di sviluppo c'è un blog ufficiale in cui ogni giorno aggiorniamo sullo sviluppo il progetto è un filmurale di silenio tutto scritto online tutto dettagliato altrimenti sono state messe in rete in modo che tutti possono vederle e si scarica da qui la versione 19 e questo è tutto per cui aspettiamo 10 per vederlo in pratica e chiedo a tutti di usarlo perché veramente è una nostra prossima siamo sette a Regione Lazio e il territorio della Regione è molto vasto cosa abbiamo fatto abbiamo cercato di darci un'organizzazione in modo tale che ad ognuno di risette corrisponda a un territorio in modo tale che questioni relative a quel territorio potessero essere esposte a quel determinato portavoce come vedete in questa slide sono le nostre immagini con delle frecce quindi è di là c'è la comunità di questo slide praticamente abbiamo utilizzato abbiamo lasciato in variata di divisione portaviale per quanto riguardano le province di Viterbo e Latina e Frosinore e abbiamo invece adottato la divisione così come abbiamo fatto per la scelta dei portavoci per la provincia di Roma quindi creando Roma città e 4 settori della provincia di Roma Roma nord-est nord-est sud-est e sud-est quindi per la provincia di Viterbo e Rieti Sitio Plasi è la diciamo la referente per quanto riguarda invece Roma città abbiamo sia da che i barillari di Giorgia che hanno anche il ruolo di fare da tramite con i consiglieri comunali i consiglieri municipali appena eletti Silvana farà starare nel settore sud-ambiente del sud-est a tasa sul test quindi la parte dei castelli Valentina oltre che il sud-est quindi quello di dove c'è Silvana sarà in provincia di Frosinore insieme a Gaia che seguirà la provincia di Frosinore e la provincia di Latina mentre me competerà solamente la parte nord della provincia di Roma questa piccola suddivisione ce la siamo parlata proprio per essere per dare a voi e per essere anche noi più precisi nel vero rapporto con il territorio questa è per avere un colloquio di tutti voi naturalmente dobbiamo cercare di capire ognuno della propria corruzione del territorio che cosa avviene in quel territorio innanzitutto cosa vorremmo fare vorremmo cercare di capire quanti e quali meetup sono attivi in tutto il Lazio questo è importante per noi perché da questo cercheremo pure appunto di fare una di vedere la base come è composta se per esempio c'è un problema in una rivela città sapere se c'è un meetup attivo chiedere a loro magari maggiori informazioni considerate che anche la nostra attività in Italia del Consiglio Regionale ci richiede questo perché alcune volte vengono portate all'ordine del giorno del Consiglio Regionale delle mozioni per esempio che vanno ad agire su un determinato territorio o addirittura in un determinato rinunere ciò significa che se non conosciamo bene la problematica di quel comune non possiamo esporci all'interno del Consiglio Regionale con un voto insomma pensato ecco e dobbiamo sempre andare a cercare di accattare notizie in quella per esempio facciamo un esempio molto attuale Ponte Corvo c'è una frana c'è una mozione presentata dalla lista Buongiorno dove vengono scritte alcune e alcuni punti naturalmente dietro all'emozione c'è sempre celata la richiesta di soldi quindi per alzare la mano a favore di quella mozione o contrariamente a quella mozione perché nessuno ci chiede di un modo di contro dobbiamo conoscere la regla di esigenza del territorio quello che è realmente accaduto quello che si è fatto in quella città che deve mettere a quel tema e per fare questo abbiamo bisogno di persone che vivono quel luogo vivono sul problema allora quanti mi tappi sono attività se serve proprio a questo non per dire ce ne avevamo 200 siamo forti non è questo il discorso è solamente per avere sotto per avere tra di noi un modo veloce per poter comunicare per problemi puntuali con un certo o con un certo parte della regione Lazio naturalmente questo ci dà anche la mano per capire anche come il cambio di lavoro che unione di noi ha se magari la provincia di Pietri e la provincia di Viterbo ci accorgiamo che ci sono solo lì 60 mità è chiaro è chiaro che tutta questa attività caricata in consigliere forse è troppo allora magari ridistribuiamo il lavoro qual è il ruolo dello staff nazionale e dei buoni negoci regionali questa è una domanda che ci è stata posta parecchia adesso ci è stato come ci dobbiamo come ci dobbiamo interfacciarmi nei confronti dello staff di Casareggio voi chi siete voi che fate ma ci pensate voi non ci pensate voi allora diciamo che naturalmente il Movimento 5 Stelle organizza la sua attività sul territorio il territorio nel comune è invitato il dipendente e continua a fare quello che ha sempre fatto fino ad oggi noi portavoce regionali siamo soltanto un aiuto un flurificatore un consiglio in più vedeteci come vi pare non siamo niente che si sostituisce allo staff di Grillo soprattutto per quanto riguarda certificazioni al momento delle elezioni amministrative del proprio comune naturalmente potrebbe succedere il fatto che in casi gravissimi che lo staff non riesce a controllare può usufruire della nostra della nostra supervisione territoriale ma questo non prescinde dal fatto che la certificazione è esclusivamente rilasciata dallo staff quindi il nostro ruolo all'interno della ragione sul territorio è un ruolo semplicemente di io ho usato tutti i frutificatori nel senso di cercare di dare una mano a Mitappe per crescere nel sostenere le iniziative nel cercare di limare eventualmente qualche contrasto a Mitappe ma alcune di queste situazioni lasciamo comunque alla lasciamo comunque a Mitappe che comunque ricordiamo è un organo che rimane principale del proprio territorio quindi che cosa che cosa che cosa abbiamo in mente di fare oltre alla vabbatura del territorio che ho cercato di spiegare è quello di creare un gruppo facilitazione un gruppo facilitazione che non è nient'altro che quello che vi dicevo prima quello di andare a capire quali possono essere le cause di eventuali dissensi ma vi ricordo che che questo l'ha fatto non soltanto perché cioè non perché se no ci rompete le scatole a dismisura perché l'ha visto l'altro questo l'ha fatto perché dobbiamo capire che il Movimento 5 Stelle lavora sul territorio per vivere il territorio per portare la politica di nuovo al cittadino eventuali contrasti all'interno del territorio fanno male solo e soltanto al Movimento 5 Stelle e questo è quello che dobbiamo fare grazie tutto grazie per quello che state facendo bravo perché lo state facendo con competenza e con grande grazie grazie la domanda è nel mare delle municipalità l'articolo 24 della della legge no che regione unita su cui fidarsi ragazzi i commenti ve li lascio se ve li spavio perché su PD e PDL si potrebbe dire di tutto la domanda è però questa proprio soltanto tra virgolette la vostra forte competenza che è stata dimostrando che cosa abbiamo intenzione di fare sull'articolo 24 sulle municipalità che non va dimenticato che questo vale tutto il consiglio regionale Lazio ma vale per tutta l'Italia in Italia ci sono oltre 7000 municipalità dove la piscina dove nuotano gli squali del PD e PDL che avete intenzione di fare sull'articolo 24 questa è della legge numero 1 perché se la provate sulle municipalità secondo io anche che probabilmente noi ci dovremmo cercare di più sull'articolo 21 della legge 9 perché erano le ditte a partecipazione regionale che però insomma sappiamo che è sempre la stessa soltra queste noi abbiamo presentato degli emendamenti ne abbiamo presentati quattro sono stati guacciati tre l'unico emendamento che ci hanno appoggiato era proprio che ci hanno votato favorevole era proprio su questa legge 21 su questo articolo 21 in cui noi chiedevamo che venissero individuate le responsabilità dei funzionari che non si fossero attenuti ai tagli stabiliti per legge questa è il fatto che è stata la nostra piccola vittoria insomma chi sbaglia deve essere chiaro già nel programma è chiaro l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle e le Lancie? riguardo queste attività partecipate vanno l'aggiunta che Zingaretti se ne è lavata le mani facendo questo articolo parza in cui diceva che sarebbero state riorganizzate ridose rinzate e razionalizzate le modalità in cui tutto ciò dovrebbe avvenire è rimasto così molto aereo non è stata data alcuna indicazione noi nel frattempo quanto è da tempo stiamo lavorando per questa riorganizzazione e quello che dicevamo prima quindi l'accesso agli atti le varie conoscenze di queste ditte di questi enti di queste società serve a noi per capire i progetti effettivamente che cosa stanno facendo che cosa hanno fatto i bilanci cioè i soldi che prendono i soldi pubblici che cosa hanno fatto come fanno i pagamenti qual è il tipo di rendicoltazione che fanno e soprattutto a parte tra le assunzioni ci stiamo concentrando soprattutto sulle assunzioni quelle che vengono fatte senza mandi pubblici perché è lì che si insinuano i miei amici dei miei amici i vari funzionari politici trombati quelli che non sono entrati per lezioni e che comunque loro cercano di mettere al loro interno abbiamo delle attivistiche che soprattutto stanno studiando quali sono le agenzie redditte da chiudere immediatamente perché sono soltanto un pubblicato di uffici pubblici che sono all'interno dei assessorati e che queste agenzie stanno esaurando completamente quindi ciò che può e deve essere fatto dalla regione quindi dall'ufficio della regione viene trasferito in queste aziende che non lavorano per competenza ma per carichi politici quindi noi stiamo sicuramente portando avanti questo studio perché ogni qualora andiamo ad intervenire sul taglio e su una modifica noi vogliamo essere completamente preparati quindi una volta finita questa fase di studio ci sono molti attivisti che ci stanno aiutando perché magari lavorano proprio il tempo di questi enti e ci stanno dando del materiale preziosissimo è una riorganizzazione difficile vogliamo raccontarvi balle perché purtroppo la guerra qui sarà veramente all'ultimo sangue però l'importante è che continuiamo la nostra attività di informazione cioè sapere che ci sono agenzie quanto spendono e i risultati che portano a casa è importante perché tutti voi dovete essere a conoscenza di quello che succede con l'interno e noi stiamo anche studiando l'organizzazione naturalmente tutto ciò che noi facciamo i vari tavoli verranno messi sull'uomo di applazzo e chiediamo appunto di collaborare con le vostre idee grazie